Max, quando esce la tier list di Dead by Dead, dei killer? Max, quando esce quindi il video? Quando esce quell'altro? Ragazzi, c'è. Lavoro tutto il giorno. Faccio live ormai due volte a settimana. Mettermi dietro a editare i video. Ci metto mezz'ora, un'ora. Dipende, dipende dai video se li edito o no. Perché i vlog di solito li butto giù così. E ragazzi, poi in caso di poi stare al computer se non abbiamo l'aria condizionata, è pesante, è pesante. Poi, bisogna vedere Stranger Things, bisogna vedere guardate dei film, quelle serie tv, contro serie tv. Ah, The Boys, iniziamo a vedere The Boys. Iniziamo a vedere The Boys. Vedi quello, vedi quell'altro. E ragazzi, il tempo è questo. Cioè, è un casino. È un casino. Cioè, per col caldo, mettermi a editare, passa veramente il sentimento. Boh, vedremo in questi brevi periodi come andrà. Andiamo un po' se vedremo. Poi raga, c'ho mille idee, mille cose. Dove ancora finire a iscrivere la canzone per Zeb 89, quella parodia. Raga, c'ho mille idee, un cazzo di tempo. Non lo so. Dai, ci vediamo. Speriamo di vederci presto, su. Eh, con qualcosa di fico. C'ho ancora quei visi da montare. Uno, due o tre c'è una da montare. Ragazzi, buona giornata.